A quando le vaccinazioni per i caregiver e nello specifico i caregiver familiari, la Regione Campania accoglie le richieste del Presidente dell'Ordine dei giornalisti assicurando che gli operatori dell'informazione saranno presto inseriti tra le categorie da vaccinare. I caregiver invece restano fuori, eppure il loro ruolo è fondamentale dato che, come gli operatori sanitari, sono costantemente in contatto con persone altamente fragili che non sempre possono essere vaccinati. I caregiver, termine che sostituisce il più noto ma decisamente meno indicato badante, ha una funzione determinante nella vita delle persone affette da disabilità, essendo l'unica forza e l'unico sostentamento per chi necessita di cure ed assistenza particolareggiata H24, come può esserlo un bambino fragile o affetto da patologie rare. I bambini affetti da disabilità rischiano ogni giorno la vita e il contagio da Covid potrebbe essere pericolosissimo e quindi anche chi si occupa di lui deve essere protetto da possibili contagi. Al momento queste valutazioni non sono state oggetto di analisi della Regione Campania, che invece avrebbe annunciato l'apertura alle vaccinazioni per altre categorie sicuramente meno esposte a rischi di quanto fosse invece accadere ai caregiver familiari. Un esempio arriva da Giulia Iannuzzi, presidente dell'associazione Ascoltami Onlus del Vallo di Diano, che racchiude poi le difficoltà di tutte le famiglie come la sua. Giulia non può lavorare perché deve occuparsi del suo bambino speciale che necessita di assistenza e cura H24 e deve accedere ai servizi sanitari insieme al suo bambino per seguire percorsi di cura particolareggiati. Una famiglia a monoreddito con il marito di Giulia e Giuseppe, che essendo l'unico a poter garantire un'entrata economica, deve uscire tutte le mattine per recarsi al lavoro, esponendosi al rischio contagio. La vaccinazione, che possa ridurre i rischi contagio per Giulia e Giuseppe, come per tante famiglie come la loro, sarebbe da considerare un salvavita per il loro piccolo. Eppure, dalla regione Campania, come anche dal Ministero della Salute, la categoria del caregiver, ossia di chi si occupa delle persone fragili e affette da disabilità, non è stata inserita tra le categorie che hanno priorità nelle vaccinazioni. E dove non arrivano le istituzioni, arrivano fortunatamente i cittadini, come nel caso, che merita di essere citato, dell'anziano 91enne di Massa Carrara, che rinuncia al suo vaccino per consentire alla madre di un bambino disabile di essere vaccinata a tutela della salute del suo piccolo, esposto a grandissimi rischi.